Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca i carabinieri hanno arrestato tre presunti rapinatori che stavano cercando di mettere a segno un colpo. Sono stati sorpresi con mazza, nastro isolante e casco in testa, pronti per mettere a segno una rapina in una gioielleria. Sono così scattate le manette per tre uomini. È successo il lunedì attorno alle 13 in via Spinello. Un uomo è sceso frettolosamente dallo scooter con il casco integrale ancora addosso ed è stato avvicinato da altre due persone nei pressi dell'ingresso del negozio di preziosi al momento chiuso al pubblico, ma il cui titolare si trovava all'interno. I carabinieri in zona per controlli intuite le intenzioni dei tre li hanno bloccati e identificati. Dalla perquisizione personale sono saltate fuori fascette d'elettricista, nastro adesivo telato, una mazza e un cacciavite di grosse dimensioni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Secondo i militari, tre già gravati da numerosi precedenti di polizia erano intenzionati a commettere una rapina. Sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina gravata in concorso. Sono reclusi nel carcere Aretino di San Benedetto in attesa dell'udienza di convalida. Adesso la cronaca giudiziari aveva aggredito il fratello a martellate e bastonate. Adesso arriva la sentenza della tribunale di Arezzo. Era l'ottobre 2023 quando aggredì il fratello a martellate e poi lo lasciò nudo per strada. Adesso il 59enne Aretino è stato condannato a sei anni di carcere. I reati contestati, tentato omicidio e rapina gravata. Per l'uomo le manette scattarono quasi subito, ancora in carcere, anche se adesso potrebbero profilarsi i domiciliari in un'altra abitazione, lontano dal fratello, che parte civile nel processo ha chiesto simbolicamente 500 euro di risarcimento. La sentenza è stata emessa dal tribunale in composizione collegiale con presidente il giudice Filippo Ruggero. La pubblica accusa, sostenuta in aula dalla PM, Angela Maziello aveva invece chiesto una pena più bassa. I fatti risalgono ad un anno fa, in via a largo 2 giugno. I due fratelli all'epoca abitavano nello stesso appartamento con la madre anziana. Una convivenza difficile, già in passato infatti c'erano state tensioni e liti, sino all'ultimo scontro nato per un banale diverbio. La vittima riportò lesioni non gravi da metterlo in pericolo di vita, ma le condotte dell'autore dei colpi furono subito qualificate come potenzialmente molto gravi. Nella mattinata di ieri il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, si è recata in questura per apportare il suo saluto alla Polizia di Stato di Arezzo in vista del suo prossimo incarico al Viminale, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Ad accoglierla il questore di Lorenzo assieme ai funzionari della questura. Un incontro intenso e a tratti anche commovente. Sono stati evidenziati infine gli ottimi risultati raggiunti nei vari profili di collaborazione tra Prefettura e Questura. E adesso voltiamo pagina a una violenta ondata di maltempo. Ieri in Toscana le piogge hanno colpito in particolare la Pisano e Livornese. Sono infatti ancora in corso le ricerche di una bimbo di 5 mesi e della donna dispersi a Montecatini, Val di Cecina. In provincia di Arezzo fortunatamente non si sono registrati gravi danni. Tra le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco di Arezzo, alcune per allegamenti in particolare nei sottopassi del Val d'Arno. Nelle prossime ore saranno comunque possibili nuovamente piogge temporali a partire dalle aree della Toscana nord-occidentale, fenomeni che poi tenderanno ad estendersi all'intera fascia costiera e alle aree interne a ridosso. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso così un codice giallo. Domani pomeriggio alle 15.30 invece la CGL di Arezzo sarà davanti al Palazzo della Prefettura per protestare contro il DDL Sicurezza. Già approvato alla Camera e a breve sarà discusso in Senato. Iniziative analoghe sono state organizzate dalla CGL in tutta la Toscana. Le soluzioni proposte vanno verso l'inastrimento delle pene e la codificazione di nuovi reati che peraltro riducono gli spazi di dissenso e protesta, dicono dalla sindacato, come reati contro le manifestazioni e le occupazioni di immobili. Norme con cui si danno risposte penali a problemi che sono soprattutto sociali e che non aumentano la sicurezza dei cittadini. E adesso voltiamo pagina per parlare di sanità. Dalla 1 ottobre in Toscana e nell'asla Toscana Sud-Est parte la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid. Dal 1 ottobre al via in Toscana e nell'asla Toscana Sud-Est la campagna di vaccinazione contro influenza e Covid. Si comincerà con gli ospiti dell'RSA per poi estenderla dal 7 ottobre a tutti gli eventi di rito. La campagna vaccinale è rivolta per l'influenza a tutti gli ultra sessantenni, ai bambini tra i sei mesi e i sei anni di vita, a tutti i soggetti fragili che hanno patologie e che quindi per la loro situazione possono avere delle complicanze gravi, a tutte le persone che fanno servizi pubblici di interesse pubblico anzi, a tutti gli operatori sanitari, alle tutte le donne in gravidanza, ai soggetti diabetici, a chi lavora a contatto con animali, quindi le categorie a cui viene afferta ogni anno la vaccinazione. È importante perché l'influenza nelle persone più fragili può comportare complicanze respiratorie, polmoniti e fino anche al decesso e quindi ovviamente è importante la protezione con la vaccinazione. Le vaccinazioni potranno essere effettuate dal proprio medico di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Per cui i cittadini dovranno rivolgersi al proprio medico, ma collaboreranno anche le farmacie per gli ultra sessantenni che faranno sia la vaccinazione anti-influenzale che la vaccinazione anti-covid e i nostri centri vaccinali dove le persone si potranno prenotare per la vaccinazione covid, riapriremo il portale prenota vaccino dove le persone si prenoteranno una volta che verranno a fare la vaccinazione anti-covid e gli verrà offerta anche la vaccinazione anti-influenzale. Oltre alla vaccinazione è fondamentale, seguire buone pratiche comportamentali per ridurre il rischio di contrarre l'infezione e per evitare di trasmettere il virus ad altri. Il vaccino è l'arma fondamentale che abbiamo, ma associato al vaccino ci sono le norme comportamentali fondamentali per ridurre la trasmissione del virus, quindi la mascherina se abbiamo sintomi influenzali, il rimanere in casa se abbiamo sintomi respiratori, il lavaggio continuo delle mani, una buona igiene delle vie respiratorie e quindi tutte norme che ci aiutano insieme ovviamente alla vaccinazione a ridurre la circolazione virale. Proseguono i lavori di ampliamento e riorganizzazione del pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Questa terza fase riguarda nel dettaglio la costruzione di una pensilina di collegamento al nuovo locale destinato alla pre-triage. L'intervento riguarderà inoltre la realizzazione di un accesso esterno ad aria specifica dedicata a pazienti con patologie infettive potenzialmente contagiose. Per poter permettere lo svolgimento dei lavori del cantiere del pronto soccorso, da giovedì 26 a venerdì 27 davanti all'ingresso della camera calda sarà interdetta l'area di transito di sosta per garantire il passaggio dell'ambulanza in emergenza. La Croce Bianca di Arezzo invece organizza un corso gratuito per formare nuovi volontari, soccorritori e cittadini per gestire in emergenza varie patologie come in parte ictus per poi comunicare al numero unico 112. Il corso avrà avvio giovedì 3 ottobre alle 21 verso la sede della Croce Bianca. I requisiti richiesti sono quelli di essere iscritti come socio volontari. Il corso avrà una durata complessiva di 125 ore, la frequenza alle lezioni teorico-pratiche è obbligatoria. Parte invece giovedì 26 settembre il secondo ciclo del corso di sensibilizzazione alla lingua dei segni, un progetto destinato ad operatori del settore della sanità e di quello educativo promosso dall'ente nazionale Sordi con la partecipazione del Comune di Arezzo e la collaborazione della Diocesi, Fondazione Arezzo Comunità e Fondazione Arezzo Intorno. Il corso di 30 ore totali si svolgerà presso l'auditorium Aldo Ducci. Si parlerà invece del futuro dell'edilizia residenziale pubblica venerdì 27 settembre alla Borsa Merci. Vediamo. Siamo nel pieno della settimana di eventi dedicate alle tematiche dell'abitare tra la città di Arezzo e le quattro vallate. L'occasione è fornita dai vent'anni di attività di Arezzo Casa. Si parla quindi di edilizia popolare, di quale possa essere lo scenario futuro. Sono 20 anni di Arezzo Casa, però si cerca di guardare con positività all'avvenire. È anche vero che è un momento, diciamo, che è un periodo già abbastanza lungo di criticità, perché in assenza di un piano casa nazionale, in assenza di finanziamenti strutturali da parte di Ministero e di Regione Toscana, anche una programmazione diventa molto difficile. Ma soprattutto diventa difficile dare risposte immediata ai tanti cittadini che hanno delle criticità nelle loro abitazioni. È difficile spiegare che non riusciamo a far fronte a tutte le richieste che derivano anche da un patrimonio datato, quello che c'è in tutto il territorio provinciale, per carenza di fondi. Quindi questa purtroppo ci troviamo sempre in una situazione scomoda e antipatica del non riuscire, non poter dare risposte che i cittadini vorrebbero sentirsi dire. Pochi giorni fa sono stati nove gli alloggi popolari consegnati nell'Aretino, ma ormai è cosa più unica che rara. Il cuore del festival sarà venerdì 27 settembre. Alla Borsa Merci ci sarà un convegno con alcuni dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale sul tema proprio dell'abitare, per fornire una prospettiva sul cosiddetto social housing. Quindi questo convegno fa il punto su questo momento di criticità e avremo dei momenti scientifici con Nomisma, che presenterà uno studio che dimostra proprio questo, è quello che di qui a breve, ma non tanto in là, di qui a cinque anni, in assenza di cambiamenti potrebbe accadere, quindi l'estrema difficoltà dei soggetti gestori o proprietari in altre regioni dell'OGERB. Avremo Sdabocconi, che fornirà degli elementi anche di possibili modalità di finanziamento, avremo un intervento in videocollegamento di Housing Europe, che farà vedere come vengono finanziate il social housing o comunque le cosiddette case popolari in resto d'Europa. Avremo l'importante testimonianza di una concittadina retina, che è l'architetto Silvia Casi, che lavora da 25 anni in Francia, con tutti i governi per la riqualificazione proprio degli alloggi e dei quartieri popolari di tutta la Francia. Nella mattinata invece avremo gli interventi più istituzionali, il neopresidente di Federcasa nazionale, il presidente di Cisper regionale, oltre agli interventi delle autorità locali. Avremo poi in chiusura di convegno le conclusioni da parte dell'assessore Spinelli, che è l'assessore regionale alla casa, e dell'onorevole Nisini per quanto riguarda il governo. Quindi credo sia una giornata molto impegnativa, molto intensa, ma ci auguriamo che possa dare degli spunti per il futuro. Sei nuove sculture installate e un defibrillatore in dono al borgo di Marcena. Questa è l'eredità di Marcenando l'arte camminando, che giunta alla sua quarta edizione ha visto il piccolo paese alle porte di Arezzo accogliere oltre mille visitatori in una sola giornata e raggiungere importanti risultati dal punto di vista sociale. Ed un successo anche per il mercatino organizzato dagli amici del Calcit di Ceciliano. Un appuntamento che, come sempre, ha riunito tutta la comunità in nome di una nobile causa, confermandosi un evento di grande partecipazione e generosità. L'incasso finale ha toccato la straordinaria cifra di 11.495 euro, risultato che ha superato ogni aspettativa e che sarà interamente devoluto alla sostegno delle cure domiciliari oncologiche. E in città arriveranno, invece, le giovani promesse internazionali della musica classica, protagonista della quinta edizione dello Youth Music Festival. Lei ha dato fiducia a questo giovanissimo talento che ha organizzato cinque anni fa la prima edizione. Mi pare che la fiducia sia ben riposta. Ebbè, era un ragazzino. È rimasto un po' ragazzino, perché la curiosità, la voglia, gli sono ancora proprio. Però ha fatto carriera e oggi per noi è una grande opportunità averlo come direttore artistico della fondazione. Giovanni Andrea Zanon porterà ad Arezzo ancora una volta le giovani star internazionali della musica classica per la quinta edizione dello Youth Music Festival. Siamo veramente soddisfatti. Quinta edizione, in questi anni abbiamo incontrato centinaia, migliaia di giovani di Arezzo. Abbiamo portato artisti di altissimo livello a suonare al Teatro Petrarca, per cui è un progetto al quale teniamo moltissimo. Abbiamo iniziato la collaborazione con questo progetto ed è il progetto di punta da un punto di vista musicale, per cui ci tengo molto. È fondamentale riuscire a creare un nuovo pubblico. Io sono convinto che i giovani non amino la musica classica, non tanto per una questione di gusto, ma perché semplicemente non la conoscono. E questo progetto ha proprio l'obiettivo di far conoscere la musica classica ai giovani. E noi ci rendiamo conto, quando andiamo nelle scuole, che suonando davanti a loro delle melodie meravigliose di Beethoven, i giovani ne rimangono colpiti. Poi vengono a teatro e ritornano a teatro, per cui vuol dire che la musica classica conserva quella potenza che ha sempre avuto. L'importante è farla conoscere, questo progetto ha questo obiettivo. Si parte il 5 di ottobre al Teatro Petrarca, quest'anno, con una novità, la danza. Cito un caro amico che è venuto in tutte le edizioni passate, Pablo Fernandez, che è probabilmente il più grande violoncialista al mondo attualmente, nelle nuove generazioni, per cui è una grandissima soddisfazione poterlo avere di nuovo ad Arezzo. E poi ci sono artisti fantastici come Lucas De Barg, Lila, non voglio citarne alcuni e non altri, però veramente sarà un'edizione ricchissima, che quest'anno aggiunge anche la danza nel suo cantellone, che non era mai stata presente negli anni precedenti. ma nel concerto d'apertura ci sarà una coreografia fatta dal coreografo del Royal Ballet di Londra, che è stata fatta appositamente per il festival, appositamente per il concerto d'apertura, per cui ci sarà questa chicca in più rispetto agli anni scorsi. Un festival che ha preso per mano gli aretini, giovani e meno giovani, in questi cinque anni e che oggi raccoglie tutti i frutti di questo impegno. C'è anche un elemento di numeri che abbiamo visto in questi anni crescere, perché poi è anche lavorare sul nuovo pubblico, perché poi la classica, se non crea nuovo pubblico, è destinata a spencersi. Il programma di quest'anno, come ha detto il direttore Zanon, è estremamente curato, come tutti gli anni, quindi ci aspettiamo anche quest'anno le soddisfazioni che abbiamo avuto. Tra l'altro confermo che questo era il festival creato per fare di Arezzo sempre di più la città della musica. Quest'anno, appunto, nel periodo in cui parte lo Youth Festival, poco prima abbiamo il Gianni Schicchi, abbiamo un'altra manifestazione a cui la Fondazione Guido d'Arezzo ha dato una mano insieme a Oida. Quindi intorno alla fondazione, intorno a questo lavoro dello Youth Festival, sta sempre nascendo anche nuovi fiori importanti. Come negli scorsi anni, i ragazzi, fino al 26esimo anno di età, entrano gratuitamente. Pensando al futuro, la speranza è quella di portare sempre più musica nelle scuole. Ne va fatta di più, forse, visto il nome che porta questa fondazione Guido d'Arezzo e che ha questa grande tradizione del polifonico, per esempio, secondo me, lavorare sulla coralità sarebbe un buon modo, un coro per ogni scuola sarebbe, secondo me, una cosa straordinaria, perché la voce è il primo strumento, dopodiché approcci su tutto il resto. Quindi sembra tanto difficile, ma le soluzioni sarebbero, come in tutte le cose della vita, fare di più, fare meglio e migliorare. Chef Shad in gara ai campionati del mondo di couscous. Retino è stato infatti nuovamente selezionato per rappresentare la cucina palestinesa, il couscous feste, potrà dunque partecipare alla massima manifestazione dedicata a questo esotico piatto che tra giovedì 26 e sabato 28 settembre vedrà professionisti da ogni continente sfidarsi nella siciliana San Vito, lo capo. Dieci cuochi di dieci paesi si confronteranno nella preparazione di una ricetta creativa a base, ovviamente, di couscous. Chef Shadi discuterà il primo incontro con la Cina. L'associazione Sbandieratori Arezzo invece ha la ricerca di nuovi allievi da inserire nelle varie specialità, tamburino, chiarina, sbandieramento e acrobatica. Non sono richieste esperienze specifiche, ma è preferibile un'età superiore a 13 anni. I corsi sono gratuiti e i candidati possono presentarsi alle 21.30 lunedì e venerdì presso il Palazzetto dello Sport Acerbai di San Laurentino a partire dal prossimo venerdì 27 settembre. E adesso la pagina dello Sport. Tornano in campo questa sera i Amaranto impegnati in tre partite in otto giorni. Al Comunale arriva il Gubbio che rappresenta il primo vero testo di un certo livello. Se le anticipazioni della vigilia saranno confermate, i Rosso-Blu verranno al Comunale schierati con una 3-4-2-1, uno dei più difficili da contrastare. Per l'Arezzo c'è l'opportunità invece di vissare la vittoria di Ponte d'Era, importante perché può dare una scossa a livello psicologico. In occasione del match, come sempre, sono poi scattate le consuete disposizioni a tutela dell'incolumità pubbliche della sicurezza urbana finalizzata a prevenire situazioni di pericolosità causate dall'abuso di alcol. Adesso il calcio femminile. La primavera dell'Arezzo, domenica 22 settembre, è scesa in campo per la prima partita casalinga della stagione contro il Napoli. La formazione ospite si è portata in vantaggio dopo 18 minuti dal fischio d'inizio. Nel corso del primo tempo le ragazze amaranto hanno provato a reagire, ma il fischio dell'arbitro si trovavano ancora sotto di un gol. Nella ripresa l'Arezzo ha continuato ad andare alla ricerca del pareggio e l'amaranto l'hanno trovata all'86esimo con Balducci che si è presentata dagli 11 metri per battere e realizzare un calcio di rigore. Le giovani amaranto restano così a zero punti in classifica. E adesso il basket prenderà avvio domenica prossima il campionato per l'ABC Servizi Arezzo impegnati in trasferta sul parquet del Menzana Siena per la prima giornata di andata del campionato di Serie B. Vediamo come si è preparata. Si avvicina l'inizio della prossima stagione, del prossimo campionato. Come si è preparata? Come si sta preparando la SBA? Avendo comunque molti giocatori nuovi, l'allenatore nuovo, stiamo lavorando molto sull'amalgama soprattutto per capire quelle che sono le nuove indicazioni rispetto all'annata precedente sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista dell'intensità e tutto. Le ultime uscite stanno dando dei segnali che comunque ovviamente ci sono aspetti su cui lavorare però ci sono anche aspetti già positivi e ora speriamo di riuscire a essere al completo nelle prossime amichevoli in modo da preparare al meglio questo campionato che comunque per la formula, per il numero di squadre è altamente competitivo perché è un girone solo da 12 squadre quindi fin da subito si dovrà cercare di fare il massimo perché sennò rimaniamo indietro nella classifica e poi è difficile recuperare. Obiettivo di questa stagione? Cercare sicuramente di provare a far meglio l'anno scorso e quindi abbiamo fatto degli innesti abbiamo allungato la rosa cosa che era una delle difficoltà dell'anno scorso siamo certi di aver inserito soprattutto nei ruoli vicino a canestro dando una dimensione diversa e delle possibilità diverse da allenatori rispetto a quello che c'era l'anno scorso cosa che abbiamo visto già dalle prime uscite perché prenga che uno dei nuovi arrivati è sicuramente un giocatore che vicino a canestro può dire la sua dobbiamo però fare i conti anche con un girone che con tre squadre di Siena tanti derby sarà sicuramente agguerrito quindi noi dobbiamo lottare avere sempre il coltello fra i denti perché appena si abbassa l'intensità in questo campionato si rischia veramente di perdere le partite Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci